ciao a tutti come vedete oggi ho aperto ableton o ableton 9 aperto dentro parallel quindi modalità windows per farvi vedere una cosa che di solito faccio quando importo in logic i progetti che mi arrivano da altre dao ad esempio mi arrivano progetti da cubase da produce da ableton e può succedere che vi arrivino progetti di questo tipo perché avete bisogno vi chiedono di mixarli o di masterizzarli e vi dicono io ho il multitracha l'ho fatto con fl studio e voi dite sì ma io non ce l'ho quindi come si fa normalmente la cosa più facile e più comoda è quella di chiedergli di esportarvi il progetto oppure tutte le tracce audio come file audio separati però facendo così si crea un problema il problema è che si creano molti spazi vuoti io con questo video vorrei farvi vedere come risolvo questo problema visivamente di modo che poi sono molto comodo nel lavorarci con logic è tutto molto molto semplice questo qua è un progetto di ableton ad hoc e come vedete ci sono molte molti piccoli pezzettini molte piccole regioni immaginiamo che il vostro cliente usi ableton oltretutto un ableton vecchio e gli dico ok esportami tutto come come tracce separate quindi lui andrà qua nella sua esporta audio tutte le singole tracce non la traccia master mi esporta tutte le singole tracce adesso qua lascio tutto così che è 40 400 profondità immaginiamo 24 lunghezza del progetto immaginiamo che sia un 40 va bene però mettiamo 45 per sicurezza dico esporta e poi lì si sceglierà ovviamente la sua destinazione export ed ecco che che ableton o pro tools o anche logic a tutti i dow hanno questo tipo di impostazione per poter esportare il progetto in tracce audio separate adesso lo lasciamo finire ma ci metterà veramente pochissimo perfetto siamo sin 2 sin 3 extra noise e dovremmo aver finito e il nostro cliente poi cosa fa ci manda tutto via growbox o we transfer e ci manderà una cartella gli chiediamo di spedircela ovviamente se possibile zippata e sarà una roba di questo tipo dove praticamente ci saranno dei file wav e asd perché in questo caso sono documenti di ableton a cui noi possiamo attingere quindi cosa andremo a fare apriremo il nostro progetto di logic nuovo un progetto nuovo eccolo qua adesso lo sto portando nel light lo schermo eccolo qua il nostro progetto di logic vuoto e posso andare a prendere serenamente anche senza andare troppo tribulare le mie i miei file qui li spunto per tipo quindi waveform le seleziono tutte le trascino e li qui crearmi delle nuove tracce ed ecco che lui mi ha creato il mio progetto ho anche creato la traccia riverdo che non me ne può fregar di meno e quindi questa la posso anche questa cancellarla e questo pure ed ecco che va tutto bene nel senso le tracce non sono apparentemente in distorsione digitale ho avuto uno spazio in più di solito al cliente chiedo anche di darmi qualche spazio in più qua all'inizio perché non si sa mai però visivamente da mixare non è comodissimo perché come vedete qua ci sono degli spazi vuoti e io visivamente vorrei avere la visione d'insieme che ha avuto il mio cliente in produzione quindi ad esempio qua nella batteria elettronica mi piacerebbe vedere questi spazi nei mattoncini questi spazi qua come fare? uso la famosa funzione del remove silence from audio region ovvero quella di selezionare una regione andare su function ctrl x vedete remove silence from audio region se io faccio ctrl x logic cosa fa? mi cercherà perché la funzione dice questo i vuoti fra le regioni serve proprio per togliere i rumori ad esempio fra i rientri microfonici dello snare o del kick ma non è quello che voglio io adesso io voglio soltanto vedere delle regioni grandi quindi cosa faccio? gli do una threshold alta tipo meno 40 ed ecco che mi ha fatto dei pezzettoni e poi gli do un silenzio minimo per accettarlo e invece che 0,1 gli do un 0,5 ed ecco che mi ha creato tre grosse regioni anzi quattro grosse regioni lo vedo qua poi gli do un preattacco perché non voglio che mi vada a fine cioè a filo quindi gli do un minimo di preattacco e anche un post release do l'ok ed ecco i miei pezzettoni la configurazione del remove silence from audio region rimane fissa a progetto quindi se io seleziono questo e premo ctrl x ecco che ce l'ho già impostata ctrl x 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 control x e control x ed ecco che qua magari mi è venuta un po male la posso anche eventualmente rifare questa qua ma non è non è quello il discorso perché tanto se io adesso quando vado qua e faccio j ovvero giuntami le regioni e anche queste questa j j j j e j cos'è j niente più niente meno che il join che dov'è che dov'è il bonus and join eccolo qua join pull trucks come vedete io ho risolto tutti i miei problemi visivi se adesso vado a confrontarlo col progetto di ableton andiamo a guardare la mia famosa batteria elettronica che mi interessava prima che è questa dovevo quattro regioni se adesso vado a vedere su ableton ho questi pezzettini qua che mi formano una regione unica questa è questa e quindi ci siamo e se io invece avessi il problema contrario dove devo sportare il tutto per farlo importare ad ableton invece andrei su file export all tracks as audio files li darei una posizione ad esempio new folder logic test logic mi da già dei pattern di nomi volendo le aggiungo anche un nome custom faccio l'esportazione ecco che logic mi starà facendo l'esportazione di tutte le tracce è molto rapido il procedimento e se io vado a crearmi un nuovo progetto di ableton o di produce o di fl studio io potrò andare a prendermi le mie tracce logic test e tirarmelo dentro insomma non mi ricordo il bottone mi sembra che sia option vediamo un po non era option con ableton non mi ricordo più perché sono sotto windows e quindi sto un po tribulando eccolo qua però ce l'ho fatta ce l'ho fatta anche in questo caso qua e vedete che il mio progetto di ableton il mio progetto meglio di logic e ben importato anche dentro ableton adesso zoomiamo un po decentemente se non ci si capisce niente eccoci qua eccomi qua grazie per avermi ascoltato seguite il mio canale che ogni tanto qualcosa di decente lo pubblico e buona giornata a tutti ciao 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 ciao